Mi chiamo Davide Licordari, il mio blog si chiama come me, davidelicordari.com, mi occupo di social media, lavoro in una web agency torinese e nella vita appunto, oltre a twittare compulsivamente, mi occupo di fare consulenza alle aziende sul mondo dei social media. Il mio blog possiamo definirlo in tre parole, verticale, noioso per chi non è un addetto ai lavori e impegnativo. L'ultimo blog è quello del mio amico fraterno Rudy Bandiera, rudibandiera.com, l'ultimo libro è Romanzo criminale. In realtà un sogno da realizzare non lo so ancora, però se continuasse così andrebbe già benissimo, sia nella vita che professionalmente sul web. Soprattutto vi aspetto a tutti i Tweet Awards 2013. Alla salute, buon salone del libro!